Prima che cominci il video ho un annuncio super importante per voi Ti aspetto per il firmacopie del mio nuovissimo libro Lo scontro dei monti Sarò presente a Roma, alla libreria Feltrinelli Viale Marconi 176-194 Sabato 14 ottobre alle ore 15 Segnatevi questa data Vi ricordo che sul mio Instagram troverete tutte le altre date in giro per l'Italia Quindi non mancare, ti aspetto Non è possibile, non è possibile Ma io ho giocato tanto, ho vinto un sacco di partite E sono retrocesso nella Lega Silver Non sono più nella Lega Gold Ma come è potuto succedere? Ciao a tutti football giocatori, come state? Spero tutto bene, perché io non sto bene per niente A parte che ho dei capelli stralunghi Che dopo vado a tagliarmi dal parrucchiere per fortuna Ma ragazzi, voglio dire una cosa Sono super arrabbiato perché sono stato retrocesso nella Lega Silver Ma non ci posso credere, se eravamo in Lega Gold Eravamo tanto così da salire in Lega Diamante Ma il gioco ha detto no, devi giocare di più Mamma mia, per favore ragazzi Per supportare questi video di calcio Lasciate tanti mi piace, mi raccomando Ed è super importantissimo essere iscritti al canale Perché dobbiamo raggiungere i 350.000 iscritti Pian piano se la stiamo facendo Siete sempre più grandi Ce la dobbiamo fare raga, almeno voi Perché io sono stato retrocesso Sono veramente, c'è Bronaldo, dimmi qualcosa tu Bronaldo, Bronaldo Vabbè, lui si sgranchisce Sapete cosa mi fa star bene? Aprire dei pacchettini Pacchetto gol, vediamo Monete, gemme, comune, raro Comune, comune, comune E raro Ragazzi, purtroppo non c'è un'offerta carina C'è solo la match day mania Che offre solamente dei soldoni e delle gemme Ma io volevo i giocatori La stagione termina, raga Tra dodici ore Ci sarà la nuova season Quindi diremo addio al 2024 kick-off stagione arena E quindi ne arriverà un'altra E dobbiamo essere pronti Il club, come procede qua? Vediamo Jafari, Dona, ok The Best, doniamo tutto Abbiamo un 658 come squadra, raga E quindi direi di giocare Andiamo, vediamo un pochettino Quasi quasi potremmo fare un torneo, eh Vediamo un pochettino Allora, vediamo 25, 30 Solo 25, eh? Ma non costa così tanto Allora conviene De Colosseum Oppure vediamo un pochettino Sì, mi fai vedere questi altri Raga, 60.000 Arena Silver Ma è tanta roba Ok, va bene Arena della Lega Silver Giochiamo E direi che per essere più carichi Il cappellino fa per noi Adam Vediamo la sua squadra Fatemi anche sapere qua sotto nei commentini Qual è la vostra squadra, ok? Anche i vostri giocatori United Kingdom Allora, portiere forte Difensori fortissimi, raga Centrocampo scandalosi Come fa ad avere dei difensori da 70 E dei centrocampisti da 40 Cioè, mi prendi in giro? Ok, let's go, raga Ci siamo Siamo operativi Con le maglie Bellissime Pronti Carichi Andiamo Forza Forza, eh Fatemi vedere di che cosa siamo capaci Fenomeno, fenomeno Fenomeno della distanza Il portiere da 70 dice no, raga Il portiere da 70 dice no, eh Ok Stiamo già dominando Comunque mi piacciono un sacco queste maglie Guardalo Il fenomeno Palo Non ci crederò Mamma mia Di semi rovesciata, raga Tessere Pirlo Bella, bella Oh Devo tenere le mani sopra l'iPad Raga, bella Bella, bella Guardalo Il signor Fallo Raga Fallissimo Oh Ma che è? Attenzione Pirlo La dà Cannavaro La dà al capitano Capitano che mi combini Mamma mia capitano Non si sta capendo più niente, raga Non si sta capendo assolutamente più nulla So solo una cosa Che questa partita la sto dominando Forza Guardalo Attenzione Kevin De Pass Raga, ma lo stiamo arando ad Adam, eh? Fantastico, raga Già giallo a numer Non ci voleva proprio, eh? Non ci voleva proprio, raga Faraone Guardalo Addiego Armando Niente Kevin De Pass Niente Mamma mia Mamma mia Che partita, raga Che partita È tostissima I nostri giocatori I nostri giocatori sono carichissimi Si guardano in mezzo Let's get it Mamma mia Che razza di gol Finalmente il fenomeno Un giocatore mitico Che si sveglia, raga Finalmente Fischia, fischia, fischia Fine primo tempo Devi fischiare Arbitro Arbitro Fine primo tempo Mamma mia Dovevamo aspettare Il cinquantesimo, eh? Cioè, raga Ha fatto zero gol Noi cinque Cioè, no Ha fatto zero Volevo dire Tiri in porta Vabbè Avete capito, eh? Abbiamo fatto Cinque tiri E un gol Attenzione Cristiano Ronaldo 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 Mamma mia Se lo potenziamo A questo giocatore Che ci diventa Una cosa incredibile Mai vista Attenzione Diego Mamma mia Che recupero di Diego Kevin De Pass Lo vede Invece il fenomeno Fallacci su falli Attento Numer Che sei già ammonito Mamma mia Che passaggio Kevin De Pass Niente Mamma mia Cannavaro Cannavaro La riprende Ottimo Così Pirlo Pirlo C'è ancora C'è ancora L'architetto L'architetto Ma che Che è successo Bronaldo Raga Che state facendo Kevin De Pass Non sto capendo più niente Raga Sto capendo più niente Piglialo Ok Mamma mia Che pollo Sì Fenomeno Numer qualcuno Raga Che lo pigli Per Bronaldo Per Numer Mamma mia Sembrava buono Raga Non è il fenomeno Questa volta Bronaldo Svegliati Che era tua Quella Attenzione Cristiano Ronaldo La riprende Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Rale riprende Mamma mia Mamma mia Non si è capito niente Si è capito niente Attenzione Il capitano C'è ancora Teniamola raga Fallaccio Quello era fallo Arbitro Mamma mia Ma cosa pensi di fare Bello It's finish 1-0 Adam Battuto Ha sofferto tantissimo Ma ha tenuto Comunque raga C'è tenuto Con 7 tiri Che gli abbiamo fatto Grazie Adam Per i soldi 60k Tutti per noi E siamo Sa passati 23esimi Raga Io devo Assolutamente Arrivare a questa Lega Diamante Per poi arrivare Alla All Stars Non ci arriveremo mai Però vabbè Dettagli Ma se voi lasciate Un bel mi piace Io sono sicuro Che si arriveremo Perché shopperò tantissimo Non c'è qualcosa Da shoppare Io vorrei un pochettino 2024 kickoff Raga Pacchetto leggendario 5 euro Facciamo così Io adesso faccio Un'altra partita Se rimanete fino alla fine Ci shoppiamo Alla fine del video Il pacchettino 2024 kickoff Ok Allora intanto Apriamosi questo bel pacchettino base Vediamo Comune Comune Ma uno schifo raga Veramente uno schifo Non stiamo trovando più niente Io spero Nel nuovo season Nel nuovo super pass Che si sia un giocatore incredibile Da potenziare Magari uno che ho già Quanto sarebbe bello Poter potenziare Gigi Oppure il capitano Mamma mia Ok raga Io direi di rifare Arena della Lega Silver Perché dà un sacco di soldi Si scommette 30k E se ne vincono 60k E poi 60 corone Che si servono Per salire Vediamo il nostro avversario Attenzione Aiato Siamo contro Aiato Che sta ridendo raga Sta ridendo Lui pensa di vincere Aiato pensa di vincere Ma non ha capito nulla Non ho visto nemmeno la squadra 658 contro 599 Giappone Ok Mi spaventa solo l'attaccante Da 60 Per il resto Easy Per il resto easy Mi sembra raga Ok Ci siamo Siamo operativi Siamo noi Siamo questi Siamo questi raga Siamo questi Kevin the pass Mamma mia Che non la pass Ma Kevin the pass Si Si Ok Maradons Maradons per Kevin the pass Kevin the pass Che giovane Ha bisogno di tirare Che tiro orribile Kevin the pass Mamma mia Ancora i brufoli Questo ragazzo Ancora i brufoli È giovane però Attenzione Attenzione Il fenomeno Il fenomeno Tutto da solo Che è successo Che What What Che è successo C'è rimasta la palla Lì Viva gli script Eh vabbè L'architetto Si prende pure Il giallo Mamma mia Raga Dobbiamo battere Aiato Perché aveva il sorrisino E lui pensa Stai già di vincere No No Raga No 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 Se raga Ma ci si potrà Far far gol Così Io veramente I miei capelli Stanno cascando Mamma mia Che brutta roba Mamma mia Guardalo Brunaldo 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 Cristiano Brunaldo Let's go Che rasta di gol Pammè Finalmente Questo giocatore Si è svegliato Attenzione Lui Diego Armando Maradona 2-1 Raga 2-1 E ci siamo Si marca stretti Raga Si marca stretti Facciamola girare Ma il primo tempo L'ha già fischiato Non mi ricordo Penso proprio di sì Faraone Il faraone Il faraone Il faraone Il faraone Per Diego Mamma mia Raga Mamma mia No Mamma mia Mamma mia Raga Si soffre Aiato vuole fare Il gol del pareggio Aiato vuole fare Il gol del pareggio Ok Che vende pass La ripassa Malissimo La ripassa Malissimo Mamma mia C'è il numer Che la spazza via In rimessa laterale Però c'è lui C'è lui Che la perde Attenzione Qualcuno raga Che la vada a pre No 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 Fortuna che l'ha messa alta Che quel giocatore Era Naro eh Ok Per Cannavaro Attenzione Brunaldo 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 Guardate che passaggio Di Brunaldo Per il fenomeno Centrale La messa centrale Bravo Brunaldo Bravo Brunaldo Così Kevin Kevin De Pass Affettalo proprio La prossima volta Non dobbiamo farlo vincere Aiato Assolutamente No raga No 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 Via Bravissimi Continuiamo così Ottantesimo raga Ottantesimo Sì 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 Diego Fallo per Diego No 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 Kevin Qualcuno che la pigli Numero Numero è stanco raga Però la prende Mamma mia Che giocatore incredibile Numero Chi era quella Brunaldo Fallo per Brunaldo Attenzione L'architetto La mette in mezzo L'architetto Che succede raga Falli su falli Falli su falli E l'arbitro dorme L'arbitro dorme Arbitro Oh Arbitro Giusto così Giusto così E adesso Adesso I fatti Si vedranno Andiamo a aprire Il pacchettino Che vi avevo promesso Visto che siete rimasti Pino alla fine Quindi Grazie mille Aiato La prossima volta Riderai di meno Vuole giocare Ancora Ma anche no Ok raga Dodicesimi Siamo passati i dodicesimi E come vi avevo promesso Andiamo nello shop E prendiamo Il pacchetto Lezzendario Garantito Lezzendario Pack Open Raro Francesco Epico Will Rodriguez Demir Attenzione The Tank Un'altra attaccante raga Ma basta Sti attaccanti Ne ho 3000 E poi uno Che è in panchina Mamma mia Epico The Best E poi Barry Io non so che cosa dire raga Vabbè Lasciamo perdere Allora Facciamo così Se volete Che io apra Altri pacchettini Leggendari Fatemelo sapere Qua sotto In un commentino Perché da me è tutto E ci vediamo Al prossimo Football video Ciao 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 Grazie a tutti.